Ho accettato l'incarico di formare un governo come mi è stato richiesto dal Presidente della Repubblica. Ovviamente sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porta il Paese a nuove elezioni. Conto di presentare in tempi molto stretti la lista dei Ministri al Presidente della Repubblica. Mi presenterò quindi al Parlamento con un programma che in caso di fiducia includa l'approvazione della legge di bilancio per il 2019. Dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. In assenza di fiducia il Governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria amministrazione e di accompagnare il Paese a elezioni dopo il mese di agosto.